Ora Santa con Gesù nel Getsemani, dalle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque. Tutte le notti, dal giovedì al venerdì, ti farò partecipare alla stessa tristezza mortale che vogli provare nell'orto degli olivi. Quindi, questa tristezza ti condurrà, senza che tu lo possa comprendere, ad una specie d'agonia più dura a sopportarsi della morte. E per unirti a me, nell'umile preghiera che presenterai allora al Padre mio, in mezzo a tutte le angosce, ti alzerai tra le ventitré e mezzanotte, per prostrarti per un'ora con me, con la faccia a terra, sia per calmare la collera divina, chiedendo misericordia per i peccatori, sia per addolcire in certo modo l'abbandono dei miei apostoli, che mi obbligò a rimproverarli di non aver potuto vegliare un'ora con me. Durante quest'ora, tu farai quello che io ti insegnerò. Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque A Santa Margherita Maria Alacoque